La finale è di Femini, si premia tutti, superato il premato di Femini, buona regolazione della Campana. Prossimo treguardo, meno sei, la conclusione che hanno segnato i primi punti validi, viene molendo il concorrente più, 36, Paico Carola, punti, traguardo meno sei, guadagna due punti la concorrente più, 53, Paico Alvia, riguadagna uno la concorrente 152, più un'azienda, questo sul traguardo dei sei giri alla conclusione. Il gruppo ancora non parla, sta imboccato, un momento, tra breve, ne vedremo sull'antilineo la cerchia di Femini, per conquistare i punti disponibili sul traguardo di Nero 5, 5 all'ervene in emozione, avete i punti in taglia per voi. Dio 5, 5 alltega Robi. Vita, guardiamo ai casi po', tutti, la concorrente non 50, solo 50, e non soffrivo se le cose con te, e ne vediamo la concorrente una 5,7 almeno ci può rubare ai punti abbastanza in monti pubblico in quali stessi, fino a quest'anno utilizzare al gruppo Stagiai, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.